il vangelo di oggi ci ricorda in matteo venite voi che siete oppressi e io vi ristorerò il mio carico è leggero e il mio gioco soave siamo a ma lula in siria antichissima città cristiana dove si parla ancora l'aramaico nel 2014 questa città è stata saccheggiata totalmente dall'isis come potete vedere ci sono ancora i segni della distruzione ma la fede la forza di cristo ha permesso a questa città di vincere anche sul mare buona giornata